Giallo di Via Poma, ultimi sviluppi. È da circa 30 anni che dichiaro che l'assassino di Via Poma ha il gruppo sanguigno A di Qualfa 4-4 che ha colpito per ben 30 volte la povera Simonetta Cesarone con la mano sinistra. Ho sempre detto che ha goduto di protezione e di complicità all'interno del condominio e poi ho scritto dei libri e ho dato delle indicazioni investigative. Mi auguro che degli inquirenti, specialmente la procura di Roma, non ne faccia una cosa di prestigio personale e di orgoglio. Potrebbe anche decidersi una volta per tutte di darmi ragione. Cosiccome mi auguro che la famiglia di Simonetta Cesaroni la smetta di correre dietro all'ichimere, e sia lei con chi vuole realmente risolvere il caso, cioè con sottoscritto il mio gruppo di lavoro chiamato Cescreen. Buonasera.